Eccolo lì, Superfucsia, Superfucsia, 1, 13, 0, 23, William Presley, Antonio Nadia, sempre lui, che pilota, che pilota, non abbiamo più oggettivi per questo pilota, buon divertimento qui, in Città del Messico, partiti, scorre il gruppone, adesso a girare per primo con l'antornologia, che capio che si tocca, lavora qualche cosa, FC prova, FC prova, ma non la tiro, che battaglia, che battaglia che stiamo vedendo, i primi tre in questo momento, sotto, il secondo, tutti e tre, chi capio, ha passato F in questo momento, in difficoltà il nostro cognizio di scantia, è arrivato un momento per F di parte di Stoffers, perché così sta pensando un rompo, Antonio Nadia ha fatto un altro capolavoro su esso, che difesa Giulio Freese, che difesa Giulio Freese, ma Lolo non si arrende, interno, esterno e trova l'incrocio, ruota, ruota di nuovo, ruota, ruota, interno, frena, blocca la giro, ruota, incrocio di Giulio Freese, che lotta, che lotta, ancora una volta, ancora una volta, il campione del mondo, va a prendersi un'altra gara, va a mettere la firma, anche il Messico, partiti, 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 F, F, e Kinkabio, subito, ruota, 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 primo errore, e si tocca già con Steffen, Lolo Bardini, approfitta e guarda in due posizioni, sezione solo Godzilla, prende l'interno di Miro Fabio, eccolo qua, Giulio Freese, che prende in questo momento la posizione, la chiude, bellissima manovra, di Kinkabio, va a prendersi un'interno, e questa forza è la manovra più bella della De Mastro, contatto, doppia manovra, doppia manovra, doppia manovra, ci trova, forza, sezione ridigirano, ruota, ruota, F già squadinsola, come uno scogliatore felice, perché rosichia punti importantissimi su Lolo, anzi, va, va, flexibilmente a chiudere il secondo posto, perché Lolo è arrivato 7, 1.33.310 4.5 il via del Gran Piano di Abu Dhabi l'ultimo finca via subito che va a incidiare un po' di masia molto prudente finca via un giro di traiettoria si accoda intanto F sorpassa Mangieri di nuovo V-Dotter all'esterno su Guilio Freys si tottato F che è attaccatissimo ma finta su Guilio Freys attaccatissimo un pezzo da là in mezzo dalla pista per eseguire perfettamente questa curva Lolo Barbieri per fine trazione meglio e ce la fa ce la fa è attaccato è attaccato si muta si muta bellissimo va all'arco va all'arco entra niente con TAP sono quasi si va a girare ma all'interno grande difesa del piotto di Tivoli veramente veramente Aizenborg su consiglio di difesa mi abbia forse entrambi con DRS si butta si butta si butta si butta si butta ben lì il cavallo del spedese lo fa passare un gol 0 a 1 un gol Zeramuro F2 prende la posizione su Lolo Barbieri esecuzione per le ultime curve intanto qui davanti Antonio Latria vince il campione da Budaphi ultimo round festeggia così pochi di artificio per lui benvi continued... I don't believe that